è ufficiale il lancio di terra 2.0 di terra luna 2.0 è avvenuto come potete vedere siamo all'interno di terra station e in uno dei nostri wallet abbiamo ricevuto questo airdrop nel video di oggi andremo a rispondere a tantissime domande ci sono moltissimi argomenti da affrontare abbiamo novità anche per quanto riguarda nexo molti di voi ci hanno chiesto per nexo abbiamo avuto delle risposte ve le faremo vedere tra poco vedremo anche come comportarci dove comprare luna quanto vale luna probabilmente faremo altri video sia oggi sia domani perché vogliamo continuare a seguirvi a 360 gradi per quanto riguarda questa nuova chain infatti l'ecosistema terra doc one hanno comunicato che si tratta di una vera e propria chain non di un fork quindi di conseguenza cosa succede che tutte le dapp che operavano precedentemente sull'ecosistema di terra classic che adesso è diventato terra classic ok dovranno naturalmente anche operare nel nuovo terra 2.0 che è una nuova chain e quindi dovranno comunque a mano a mano fare delle azioni per poter andare appunto ad operare nella nuova chain questo vuol dire però che comunque luna classic quindi questo lo confermo già da adesso i vecchi luna che voi avevate si sono trasformati in luna classic gli ust è rimasto non sono scomparsi li avete se in qualche wallet in questo momento non si vedono non si può operare perché c'è comunque questa fase di passaggio anche alla nuova chain attraverso l'air drop e quindi di conseguenza magari avrete dei problemi da questo punto di vista ma ci sono li avete ok detto questo siamo all'interno di terra station e vi voglio subito far notare una cosa che abbiamo ricevuto una parte in questo wallet io perché vi dico in questo wallet perché noi diversifichiamo siccome i wallet sono gratuiti avere tutto in un unico wallet è sempre un errore perché non si sa mai nel mondo delle criptovalute del digitale ok quindi è sempre meglio diversificare anche per un discorso di sicurezza detto questo abbiamo ricevuto 16,63 luna che immediatamente possiamo già andare a fare degli swap possiamo comunque quindi significa che li possiamo convertire possiamo metterli in staking li possiamo delegare possiamo fare qualsiasi cosa e poi abbiamo ricevuto un vesting di 38 luna questi 38 luna quindi vi faccio proprio capire cosa è successo questi 38 luna sono stati messi in vesting cosa vuol dire? in primis che sono stati messi qui nello stake tra le altre cose e quindi sono i staking e già generano degli interessi guardate qui la delegazione in stake l'hanno scelta loro nel senso che li hanno messi in un validatore random in questo momento infatti se io clicco mi ritrovo su sarah kerrigan guardate ok se io volessi però posso revocare la delega aspettare 21 giorni e poi delegare in un validatore che preferisco io però guardando un po' i dati non è malvagio ha comunque un giusto potere di voto commissioni corrette e così via quindi da questo punto di vista ci può anche stare poi magari lo rivediamo tra qualche giorno nel frattempo però che io comunque con questi non ci posso fare nulla almeno genero degli interessi e il vesting funziona in questa maniera verrà rilasciato il 24 novembre vedete e fino al 23 maggio io riceverò 9,70 luna poi il 23 maggio verranno rilasciati questi 29 gradualmente attenzione fino al 13 novembre 2024 successivamente no perché io comunque da questo punto di vista ho un vesting come vi dicevo appunto di due anni quindi più o meno è questo qui il discorso però ci sta perché almeno da questo punto di vista tutti immaginate che avessimo ricevuti luna purtroppo visto quello che è successo quindi sarebbe giusto che noi facessimo quello che vogliamo con un'attenzione ma in questa maniera non tutti vengono venduti immediatamente quindi comunque rimane salda la chain ora detto questo ok non entro nel dettaglio di terra classic luna classic che ripeto rimangono quindi ok adesso noi oggi parliamo di terra 2.0 poi nei prossimi video vediamo anche qualcosa per quanto riguarda terra classic però voglio farvi vedere il prezzo attuale di luna che non è malvagio rispetto a quelle che erano le previsioni di alcuni che abbiamo letto nei commenti dei giorni scorsi eccoci qui in questo momento luna vale 13 euro e 22 vi faccio vedere i prezzi in euro tanto ormai in questo momento euro e dollaro sono simili valeva 18 euro il massimale vabbè ma non consideriamo perché capisco che molti in questo momento lo stanno tampando cioè lo stanno vendendo perché non credono più nell'ecosistema terra ci sta però naturalmente visto quello che hanno fatto qui che comunque c'è una parte bloccata e naturalmente da questo punto di vista vuol dire che si mantiene un po salda la chain ci può stare poi ci sarà chi vuole investirci perché appena uscito pensando comunque che possa fare un balzo detto questo però io leggevo commenti di chi diceva ma al massimo varrà 50 centesimi di dollari un dollaro 20 centesimi di dollari no quindi già comunque chi ha comprato ecco faccio un esempio chi ha comprato terra all'inizio del 2021 quando comunque ancora valeva poco oggi può vendere una parte di queste terre comunque in guadagno chi l'ha comprato a 100 no questo no però un conto è che ti ritrovi un terra un terra un luna che vale pochi centesimi un conto che lo vendi a 13 euro c'è rimesso ma comunque ci stai recuperando qualcosina quindi questo comunque è il motivo per cui vi dicevo guardate che l'air drop che ci sarà il tra virgolette fork è una cosa alla fine positiva vista la situazione visto quello che è accaduto non perché è positiva di per sé visto quello che è accaduto per non piangere con due occhi piangiamo solo con un occhio ecco tutto qui terra classic invece rimane vedete che ancora esiste e di conseguenza questo è il suo valore attuale se io vado a vedere l'ultimo giorno ecco qui guardate comunque ora ho avuto un piccolo tampo ma parliamo di sempre di pochi centesimi ma esiste ancora quindi voi lo avete se non lo vedete nei vostri exchange non vi preoccupate e cosa molto importante andiamo a leggere alcuni alcuni tweet dell'account ufficiale di terra e poi vi do una sorpresa perché si può già comprare allora qua ci dice che coloro che sono idoni all'air drop lo possono già visualizzare nella nuova catena selezionando la rete phoenix che in realtà qua ci fa capire che invece è mindent eccola qua quindi non è non è phoenix ok possono fare più cose con i loro luna liquidi che quelli che sono i luna liquidi sono questi qui ok possono andiamo qui metterli staking possono venderli possono partecipare alla governance metterli nelle tapp eccetera qui ci spiega che una nuova catena non un fork e quindi le tapp si dovranno adeguare il discorso dello staking già ve l'ho spiegato che se volete li volete togliere e poi rimettere in staking su un nuovo validatore che voi preferite andiamo veloci qua perché ci sono veramente tante cose da dire mentre in staking tu guadagnerai dei premi che naturalmente possono essere richiesti in qualsiasi momento e poi per il resto già ci siamo da questo punto di vista Do Kwon ci spiega naturalmente che è stato lanciato anche lui vediamo un po gli ultimi tweet più che altro ci dice naturalmente come puoi fare ecco qua spiega come potete se avete dei problemi andate negli account twitter ufficiali che comunque troverete delle risposte e attenzione attenzione cosa cosa molto importante adesso ve lo faccio vedere subito aggiorniamo questa pagina perché si può già comprare e vendere l'una infatti in primis in basso troverete il link per potervi iscrivere a buybit se ancora non siete iscritti e potete ricevere questi bonus subito 20 dollari poi fino a 1000 dollari e così via ora non entro troppo nel dettaglio perché non è questo il video dato ma scrivetevi dal nostro link perché avrete un sacco di vantaggi una volta fatto questo una volta che vi siete iscritti verificato il conto è roba di 10 minuti ma fatelo adesso se lo volete fare depositate del denaro su buybit e guardate un po avete la possibilità di scambiare l'una con usdt c'è già lo scambio l'una usdt e guardate un po il valore di luna 14 60 14 50 e così via quindi potete chi non allora chi non aveva comprato l'una in passato e vuole adesso investire per la prima volta lo può fare li può già comprare siamo quasi a 15 dollari ecco che abbiamo toccato i 15 dollari quindi sta risalendo una candelina verde cosa importante quello che voi potete fare è spostare per esempio da terra station i vostri luna in un exchange scambiarli in un exchange oppure potete fare lo swap che in questo momento non credo che ci sia però noi possiamo inviarli ok a un destinatario quindi li possiamo vedere vedere li possiamo inviare quindi di conseguenza non dovremmo avere problemi però noi ancora questa cosa vi dico la verità non l'abbiamo provata perché in questo momento abbiamo ad un po gli occhiate vari wallet e adesso vediamo come effettueremo operazioni se investiremo ancora in luna compreremo nuovi luna visto l'attuale prezzo e visto che potenzialmente può salire però ricordo sempre no consiglio finanziario è un grosso rischio perché non possiamo sapere come andrà soprattutto in queste prime ore in cui c'è un punto interrogativo gigantesco e attenzione altra cosa importante vi ricordo che in descrizione troverete anche il link di atani che l'abbiamo già mostrato c'è un video tutorial sul canale e quel tool quel sistema quel software che ti darà la possibilità di collegare tutti gli exchange in un'unica piattaforma e quindi vedere dove conviene comprare l'una per adesso ce l'abbiamo solo su buy bit ma vi do un consiglio contestualmente registratevi e gratis su atani avrete trading u premium gratis tutti gli exchange da collegare come binance ftx eccetera eccetera e lì avrete una panoramica coinbase pro ora non ve li dico tutti i coin eccetera avrete una panoramica di tutti gli exchange e potete vedere dove comprare e vendere l'una 2.0 nella maniera più conveniente possibile poi abbiamo fatto dei tutorial quindi se avete difficoltà a fare trading di criptovalute ma qua potreste anche fare semplicemente gli investitori potete vedere quei video per capire un po come fare anche in questi momenti come poter fare delle piccole operazioni tipo comprare l'una 13 rivenderla a 15 una volta rivenduta a 15 aspettare che riscende a 13 e così via ci sono quelle operazioni che in questo momento chi vuole anche un po rischiare perché il rischio c'è lo può fare detto questo ok abbiamo un'altra notizia molto molto importante per quanto riguarda nexo e attenzione luna c'è ha appena comunicato terra c'è appena comunicato che è possibile tradare sia con usd si sia con usd di luna subito detto questo andiamo su twitter e leggiamo proprio il nuovo tweet di nexo adesso tradotto in italiano perché naturalmente così è chiaro per tutti nexo supporterà e distribuirà l'airdrop terra 2.0 e possessore di usd e luna e quindi io qui farei un applauso nel senso che secondo noi ha capito che stava facendo una cazzata non rispondere a determinati commenti e non partecipare all'airdrop se naturalmente era questo il loro intento questo noi non lo sappiamo però comunque nexo si è sempre fino ad adesso comportata bene verso la community ha dato comunque degli ottimi tassi di interessi e abbiamo sempre parlato bene come exchange ed era un peccato perdersi in un bicchiere d'acqua quindi qui ci fa capire che parteciperà all'airdrop quindi ricaricheranno i token direttamente su tutti gli account nexo in base ai loro saldi usd e luna in entrambi i momenti istantanei per ciascuna risorsa quindi prima e post quindi il 7 e il 26 come vi ho detto io ore 22 ma ormai sono già passati il nuovo luna sarà quotato su nexo e sarà disponibile per il trading subito dopo che i nostri principali partner di scambio avranno proceduto la quotazione al momento del lancio le funzionalità guadagni e prendi in prestito non saranno abilitate simili ad altri importanti exchange e piattaforme il team next avrà bisogno di un po di tempo per elaborare l'airdrop quindi negli exchange non vi preoccupate rispondo a una domanda se non avete ricevuto l'airdrop attendete state tranquilli perché dovrebbe arrivare al momento non è richiesta alcuna azione da parte degli utenti una volta effettuato l'accesso dopo la distribuzione l'airdrop il tuo saldo sarà disponibile per il trading non vediamo l'ora di passare all'una 2.0 resta sintonizzato per gli aggiornamenti questo è l'ultima notizia di questo video ma siamo felici vi ricordo che in basso avrete la possibilità di iscrivervi a nexo con 100 dollari quindi acquistando 100 dollari di criptovalute se li tenete fermi per 30 giorni vi consiglio stable coin comprare 120 euro perché loro vogliono che non usci che non diminuisce mai il valore rispetto ai 100 dollari riceverete 25 dollari gratis di bitcoin quindi comprate per esempio 120 euro di luna rimanete fermi io vi consiglio stable coin perché adesso è molto volatile una volta bastati 30 giorni vi daranno 25 dollari di bitcoin probabilmente in questa giornata usciranno nuovi video anche domani di aggiornamento per adesso queste sono le news più importanti fateci sapere cosa pensate di questo airdrop se siete soddisfatti dell'attuale valore di luna se avete dubbi domande lasciateli nei commenti qui in basso ciao e a presto